Quali sono i crampi alle gambe? I crampi alle gambe sono contrazioni muscolari delle gambe che spesso causano una notevole quantità di dolore. Ci possono essere un numero di cause diverse che sono responsabili per i crampi. In molti casi, possono essere prevenuti. Tuttavia, alcuni possono essere geneticamente inclini a crampi e potrebbe esserci poco da fare per fermarli. Ci sono due prime volte che i crampi hanno maggiori probabilità di accadere. Possono accadere di notte, mentre un individuo dorme, facendoli svegliare con un dolore lancinante. Possono anche accadere durante i periodi di intenso esercizio fisico. In caso di crampi durante l'attività fisica, potrebbero non essere così gravi, semplicemente perché si possono prendere dei provvedimenti se la persona è sveglia per diminuire la gravità. Sebbene la causa esatta dei crampi alle gambe notturne non sia nota, ci sono momenti in cui sembrano accadere più spesso. Forza muscolare il giorno precedente, disidratazione, diabete di gravidanza, alcuni farmaci e persino l'uso di alcol può significare una maggiore incidenza di crampi. I crampi notturni si verificano spesso su un individuo senza preavviso, anche se alcuni possono essere consapevoli di una certa tensione nel muscolo prima che il crampo cominci sul serio. Crampi alle gambe e crampi da nuoto si verificano spesso tra gli atleti, in particolare quelli che sono stati coinvolti in tale esercizio per un lungo periodo di tempo. In queste situazioni, la disidratazione è spesso la causa principale dei crampi. Gli atleti possono essere trattati per i crampi prendendo più liquidi o forse anche ricevendo liquidi per via endovenose se la disidratazione è abbastanza grave. I crampi alle gambe sono molto facili da identificare. Spesso si verificano nel polpaccio o nella coscia, causano un dolore intenso che di solito dura meno di un minuto, anche se è possibile che durino diversi minuti. Mettere pressione sulla gamba, sia stando su di esso, sia spingendolo contro un oggetto solido, può aiutare ad alleviare la pressione. Lo stretching può anche ridurre la gravità. Prevenire i crampi alle gambe comporta il controllo delle situazioni che hanno maggiori probabilità di causarle. Rimanere top idratati è forse il modo più spesso consigliato per prevenire un crampo. Lo stretching, l'assunzione di sufficiente quantità di potassio e l'aumento graduale del carico di esercizio sono altri modi comuni per prevenire i crampi alle gambe. In alcuni casi, se i crampi alle gambe notturni sono persistenti, si consiglia di consultare un medico. Se è possibile determinare una causa per i crampi, il medico può essere in grado di prescrivere un medicinale, un cambiamento dello stile di vita o un supplemento che può aiutare a ridurre la frequenza e la gravità dei crampi. Anche se questo non può prevenire tutti i crampi, qualsiasi sollievo per coloro che soffrono di crampi alle gambe frequenti è ben accetto.